Oggi è sabato 15 giugno 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 15 giugno 1939. L'inventore statunitense Julian Seth Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray. L'idea originale è nel 1926 del chimico norvegese Erik Rotin, che però un anno dopo vende il brevetto ad un'azienda degli Stati Uniti. La novità di questo oggetto, che oggi compie 80 anni, è la possibilità di trasportare facilmente sostanze liquide e di poterle poi diffondere come aerosol, grazie ad un gas compresso liquefatto. In un primo tempo come propulsore viene usato il freon, che però nel 1989 viene messo al bando perché è considerato inquinante e sostituito con butano, isobutano o propano. Nel 1941 due ricercatori del Ministero dell'Agricoltura statunitense, Lyle Goodway e William Sullivan, brevettano l'erogazione di insetticidi tramite bomboletta spray. L'idea contribuisce alla grande diffusione dell'oggetto grazie alla sua utilità per difendere i soldati impegnati nella Seconda Guerra Mondiale sul fronte del Pacifico dagli insetti portatori di malaria. A dare un decisivo contributo alla diffusione della bomboletta spray è Edward Seymour, che nel 1949 inizia ad utilizzarla per erogare vernice. L'idea gli viene suggerita dalla moglie, ennesimo esempio della veridicità del detto secondo cui dietro i successi di un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.